allora ragazzi stiamo facendo più video per un motivo grandissimo bensì perché la connessione va e viene capito? capito? comunque poi è entrato nel mio club che bellissimo entratesi mi fido di voi mi fido di voi mi fido di voi mi fido di voi entratesi non fate cattivi si devono entrare tutti 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 voi per essere dei veri coccodrilli dentro e fuori andiamo con una bene 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 aspettate ciao 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 Che stupido biume! Stupido biume! Pris esista! Otto Nove dieci Passiamo questa raga Grazie Sì, 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 sì. lei si deve mandare subito di cattiveria cattiveria ma si può mettere una volta e il mio gonduri è assagerato l'abbiamo usciso ragazzi l'abbiamo usciso ragazzi perché siamo dai sei meglio non morire cavolo lo guardo più tardi no raga ah no stavo per l'altro andiamo che l'abbiamo letteralmente usciso scappa scegli non andargli contro ma pure l'altra scegli è morta no vabbè sciccio bomba andate che faccio un divertivo tabum clamum no è solo lei io subito di cattiveria scusate che voglio sempre no sta solo con il con il lambone c'è quella schiena gioca da tanto tempo per carità però aspetta che noi viviamo eh vai che lo sfido 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 yes yes più cinquanta ragazzi comunque io vi dico entrate nel mio club e non fate cattivi ciao 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 Grazie a tutti